Si accamodi allo sportello, prego. Signor Roland, da quanto tempo? Immagino voglia aprire la sua cassetta. Posso avere la sua chiave, per favore? Da questa parte, prego. Come può notare, abbiamo migliorato il nostro sistema di sicurezza. Non si è mai troppo prudenti al giorno d'oggi, vero? Salve, James. Il signor Roland vorrebbe aprire la sua cassetta. Buongiorno, signor Roland. È sempre in fondo alla stanza. Mi chiami quando vuole uscire. Il timer. Carrington aveva ragione. Hanno abboccato. Guarda qui quante prove. Questi documenti non devono finire nelle loro mani. Li incrimineremo tutti, da numero 20 a numero 1. Cosa conti di fare su quella barca? Riservata? Ah, capisco. Beh, io non mi fiderei se è una delle trovate di quella pionda. Quella porta solo guai. Forza, piazza la bomba. Signor Roland, che succede? Sono caduto nella mia stessa trampola. Bene, bene. Questo sistema di sicurezza è un mistero. Ma com'è che si bloccano le usci? Due Alpo 1-8, sparatori alla WIS-9-10. Chiediamo rinforzi. Due Alpo 1-8, ECB1. Unità localizzata. Rinforzi da WIS. Unità localizzata. Niente panico! Mantenete la calma! Unità localizzata. Niente panico! Mrestate al minuto! Niente panico! È la sua nuova! Come? Ea ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove diavolo è finito? C'è qualcosa all'interno? C'è qualcosa? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Centrale qui, volante 5. Unità è già sul posto. Ricevuto volante 5. Rimango in media. FBI, getta l'arma! Steve Roland, lei è in arresto per l'omicidio di William Sheridan. Steve Roland, lei è in arresto per l'omicidio di William Sheridan. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Tutto ciò che dirà potrà essere usato contro di lei in sede di giudizio. A che serve un avvocato se non mi ricordo nulla? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.